Ci troviamo a fianco di un cassonetto della raccolta differenziata della carta completamente annerito dalle fiamme che lo hanno avvolto nella notte appena trascorsa. Quello in questione è un cassonetto in via palestro, uno dei tre cassonetti che sono stati dati alle fiamme in una nottata di incendi dolosi che si è verificata appunto nella notte appena trascorsa. Nottata di incendi in zona Cinque Torri dove Piroma e Lignoti hanno appiccato il fuoco appunto a quattro cassonetti compresi fra la via palestro dove ci troviamo ma anche fra via Nanter e via Goito e caso ancora più grave hanno dato pur alle fiamme un'autovettura Fiat 600 parcheggiata non lontano dagli stessi cassonetti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il primo cassonetto all'1 e 10 dopo che è arrivata la chiamata d'allarme anche dagli stessi residenti ma i focolai sono spuntati via dopo via impegnando le squadre intervenute per le operazioni di spegnimento fino alle 3 e 50 di questa notte. Ed è dunque caccia al Piromani o ai Piromani vista la natura chiaramente dolosa di questi incendi che ha portato in nottata a intervenire anche pattuglia di polizia e carabinieri assieme ai vigili del fuoco. Che sia stata una bravata giovanile o un atto vandalico più grave resta la serietà dei reati che sono stati portati a conclusione in questa nottata. Grazie a tutti.